Dunque, Dall'Adora, qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è cercare di portare avanti questo procedimento che è partito con un voto unanime al Consiglio Comunale sulla manifestazione di interesse circa un anno fa, che ha portato all'analisi delle proposte che sono pervenute da diverse aziende, proposte delle quali ne sono state prese in considerazione due, due aziende che hanno deciso di provare a collaborare per superare i loro punti di debolezza e rendere ancora più forti i loro punti di forza in modo da proporci qualcosa di quanto meglio per la nostra azienda per arrivare alla realizzazione del biodigestore, che poi è quello a cui ha sempre puntato il Partito Democratico, perché su questo non ha mai cambiato idea il Partito Democratico, vogliamo renderci autonomi ed avere questa azienda sempre più forte. È esattamente il contrario di quello che ci imputano, dicendoci anche che tra l'altro facciamo trame notte e tempo quando non c'è bisogno di alcuna trama, in quanto tutto questo procedimento è molto lineare e alla luce del sole. Notte e tempo, francamente, io preferisco dormire. Agnese, vi siete detti stupiti delle dichiarazioni di Busca, che ha parlato a nome dei socialisti fanesi. Per quale motivo? Sì, le dichiarazioni del Partito Socialista ci hanno lasciato abbastanza interdetti. Prendiamo atto sicuramente di un ennesimo accanimento nei confronti del PD di Fano e dichiarazioni che sono a nostro avviso disdicevoli e irrispettose. Un partito dal passato illustre e sicuramente dalla comprovata esperienza politica dovrebbe rendersi conto che mettere il becco, insinuarsi nelle vicende e nelle faccende politiche di un'altra forza politica non è buona cosa, soprattutto se lo si fa per il proprio tornaconto. Non solo. Ci ha stupito particolarmente l'avere invocato a gran voce l'intervento del PD provinciale che avrebbe dovuto, che dovrebbe, secondo il Partito Socialista, intervenire per mettere a tacere le turbulenze del PD fanese. Faccio fatica anche a immaginare che il nostro sindaco, che ovviamente era giusto ieri a rappresentare i socialisti italiani appunto al Concilio Internazionale dei Socialisti di Ginevra, non in qualche modo così tenga a bada un pugno di socialisti fanesi arginandone le intemperanze. Grazie. 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 Grazie.